ciao sono il dottor tesauri fisioterapista tv medical spazio salute ora vi mostro alcuni esercizi che proponiamo durante i nostri percorsi di fisioterapia integrale il primo esercizio che vi propongo è uno squat durante il piegamento mantenere la colonna estesa evitare che le ginocchia vadano oltre il piede e vadano verso l'interno tornati su eseguire questo esercizio per circa 10 volte il secondo esercizio che vi propongo è un affondo posteriore che serve per rinforzare l'osforatura con i piedi della vicina mantenendo la colonna estesa portare la gamba costellamente e con la gamba in avanti evitare di portare il ginocchio oltre il piede e portarlo verso l'interno eseguire l'esercizio anche con l'altra gamba e ripeterlo per circa 10 volte il terzo esercizio ben eseguito in posizione crona portare una gamba verso l'alto cercando di tenere il ginocchio esteso ed evitando di inarcare la schiena eseguirlo anche dall'altro lato e ripeterlo per circa 10 volte vi ricordo che in caso di difficoltà durante l'esecuzione degli esercizi o comparsa di dolore potete contattarci telefonicamente o via scala